Uno dei luoghi comuni da smentire è che i giovani leggano poco. In realtà, secondo i dati a nostra disposizione, nel 2017 più del 50% dei giovani tra 6 e 17 anni ha letto almeno un libro nell'anno. Sono più le ragazze dei ragazzi avere questa abitudine. Se consideriamo la fascia tra 11 e 14 anni, circa il 65% delle ragazze ha letto almeno un libro nell'anno e il 48% dei ragazzi. Anche se nel tempo è diminuita la quota dei lettori tra tutta la popolazione, si mantiene comunque elevata la quota dei giovani che hanno l'abitudine alla lettura. Tra i giovani è molto diffusa anche la scrittura. Se consideriamo quindi l'abitudine di leggere e scrivere quelli che noi definiamo i lettori scrittori, sul totale della popolazione sono circa il 7,7% e salgono al 13% tra le ragazze di 15-19 anni. Quindi è un'abitudine che porta quindi i giovani a volersi esprimere anche tramite la scrittura, di racconti, di romanzi, di storie in generale. L'ambiente in cui si vive è molto importante per apprendere i comportamenti come quello della lettura. Se consideriamo i giovani tra 6 e 17 anni, circa il 70% è lettore vivendo con genitori entrambi i lettori, contro il 30% invece di chi vive in famiglie in cui non si ha l'abitudine alla lettura.